Questo è un progetto che è stato costruito dalla regione insieme con un'agenzia formativa e con tutte le università della Toscana. È un progetto che non vuole andarsi a sovrapporre a quelle che le singole università già da sole, giustamente, realizzano, ma è un progetto che è basato su una conoscenza dei sistemi produttivi e imprenditoriali della nostra regione, proprio per rendere maggiormente consapevoli i ragazzi delle loro scelte, per rendere consapevoli che studiare serve e che appunto studiando possono e acquisendo quelle competenze che sono importantissime per il sistema produttivo della nostra regione possono più facilmente trovare un'occupazione. Quali saranno gli sviluppi di questo progetto? Questa è una tappa naturalmente, è un progetto iniziato con un percorso in classe, con dei giovani laureati addirittura che hanno cercato i ragazzi. Quali sono le prospettive? È un percorso lungo che prima di tutto ha formato quelli che sono stati gli orientatori all'interno delle classi. L'orientamento non si può risolvere in un contatto occasionale con le università, ma occorre un contatto più continuo. Per questo abbiamo lavorato all'interno delle classi e poi stiamo cercando di mettere insieme, di far conoscere anche altre politiche che la regione toscana sta portando davanti, ad esempio sulla ricerca. Il portale Toscana Open Research che oggi appunto sarà utilizzato come uno strumento per rendere più consapevoli i ragazzi di quello che è la ricerca in Toscana, di quello che sono i rapporti fra la ricerca e le imprese nella nostra regione. Si sta andando sempre più a fare rete tra agenzie di formazione, università, regione, tutto questo appunto per favorire la crescita e soprattutto il collegamento tra scuola e lavoro. La regione toscana ha fatto molto da questo punto di vista, quali possono essere i prossimi passi per fare ulteriormente meglio? Ma sicuramente è un contatto sempre più stretto tra gli assessorati all'istruzione, alla formazione, al lavoro e l'assessorato all'università e alla ricerca. Stiamo lavorando fortemente in questa direzione con l'assessore Grieco che appunto sta collaborando con le sue strutture anche a questa iniziativa, sempre appunto per far conoscere di più ai ragazzi quelle che sono le opportunità di studio ma anche di lavoro nella nostra regione. La nostra regione può ancora dare molto e soprattutto quali sono i settori dove veramente la regione può dare tanto per il futuro? Ma adesso si apre, si è aperta tutto il tema dell'industria 4.0 che sarà appunto uno dei temi rilevanti anche dell'incontro di questa mattina. Quindi c'è tantissimo da costruire, c'è tantissimo da innovare. È evidente che sono le imprese che sono capaci di innovare che poi possono rimanere sul mercato.